172 Attraverso Daniela a cura di VB Entità Gael La pace sia con voi Fratelli, maestri, cari amici Gael sottolinea maestri Non a caso da tanti dei vostri anni Gael vi chiama maestri ma avete sottovalutato questa parola Il maestro è colui che insegna e ognuno di voi attraverso la sua parola il suo pensiero la sua esperienza insegna a sé medesimo Non c'è parola maestro che esca dalla tua bocca che non sia per te frutto di insegnamento È semplice credere di insegnare ad un altro da te Avete scambiato questo maestro per colui che insegna fuori da sé Ma se per un istante vi ascoltaste tornaste indietro nel vostro tempo passato vi accorgereste che ognuno di voi ha creato per sé stesso per sapere, per imparare e non è importante l'esperienza che voi vivete importante è sapere che ognuno è Dio di sé in questo perpetuo gioco che voi chiamate vita